Che fosse favorita era chiaro nell'ottica di una continuità amministrativa e di una tradizione erradicata che vede esportore roccaforte del centro-sinistra. Ma Chiara Trulli, primo sindaco donna del comune dell'area metropolitana pescarese, ha sbaragliato la concorrenza e vinto al primo turno superando il 60% delle preferenze. Bisogna tornare al 97 per un dato paragonabile al primo successo di Donato Renzetti. Da vice sindaco a primo cittadino è pronta a raccogliere il testimone da Luciano Di Lorito. I primi 100 giorni ci vedranno impegnati sicuramente nel lavorare per continuare sulle progettualità già avviate, le grandi opere che attendono appunto di essere portate a compimento a spoltore e poi anche sull'ordinario. Rendere la città più bella, più sicura, tutto quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale e che manterremo. PD di Gran Lunga è il primo partito, 36,5% di preferenze e 7 seggi in Consiglio Comunale con presenze molto forti quali Lucio Matricciani, il più votato con 673 preferenze. Quirino Di Girolamo e Stefano Sebastiani sfiorano le 500. Due seggi a testa per le liste Sinistra Civica e Insieme, nessuno per il Movimento 5 Stelle. Entrano in Consiglio i tre candidati sconfitti, Marco Della Torre, sostenuto da Forza Italia, Frateri d'Italia che prendono un seggio a testa e Udc, 20,9%, il civico Nelson Anzoletti, 10% e Pierpaolo Pace della Lega, 9%. Sconfitta chiara e analisi che puntano il dito verso una scarsa affluenza, appena sotto il 55% degli eventi diritto. La cosa più allarmante sia il 45% di gente che non è voluta andare a votare, questo la dice lunga sul disinteresse della vita politica spoltorese, forse legato anche a questi 30 anni di sinistra, per cui la gente è sfiduciata. Un sindaco che è espressione di un quarto della popolazione della città di Spoltore, questo sicuramente non sarà rappresentativo per la fusione sulla nuova Pescara e questo sinceramente mi preoccupa, per cui il mio impegno è quello di difendere con i denti gli interessi del territorio e dei nostri cittadini.